Buongiorno a tutti, lunedì 15 ottobre, iniziamo una nuova settimana. Tengo la cartelletta perché mi hanno rubato il gobbo. Allora, il riscaldamento di oggi è una Mad Ball Sit-Up Throw Facing Buddy. Eh? Allora, Mad Ball, quindi palla medica, sit-up, quindi sit-up con palla medica, throw facing buddy, cioè quando salgo la tiro verso il compagno che sarà seduto di fronte a me, quindi facing buddy, compagno. Lui dovrà tirarla a me e così faremo per un po' di volte. Comunque, tutto questo, come al solito, è spiegato nei link qua sotto. Andiamo subito nel World. Oggi niente skills e niente strengths perché ci aspettano 10 minuti di Fight Gone Bad. Ovvero, sono a 3 round per un totale di ripetizione, appunto, in 17 minuti, dove il primo minuto faremo ball ball, il secondo minuto sumo dead, il terzo minuto box jump, il quarto push press, il quinto minuto raw e il sesto minuto, grazie al cielo, un po' di rest. Non sarà facile, ma sicuramente potete farcela. Pesi, carichi e quant'altro sulle grafiche qui di fianco. Per oggi è tutto, ci vediamo domani su Ciper TV.